Caro Simon, tu non mi conosci, ma mi sono trasferito ad Atlanta. Io sono mia. Victor, io sono confuso. Dall'autore di Tuo Simon. Ad alcuni ragazzi piacciono i ragazzi, ad alcuni le ragazze, ad alcuni entrambi e... Io non so cosa mi piace. Essere il tuo migliore amico sarà fantastico. Quindi, Simon, per i miei 16 anni desidero capire cosa voglio. Tuo Victor. Love Victor. Serie originale star in esclusiva. Dal 23 febbraio su Disney+.